1890, le rotaie a Cinisello. La società inglese del Lombardy Road Railways Company ebbe la concessione della linea del tram Cusano-Monza-Carate, il famoso gamba di legno a vapore. Si partiva da Cusano, poi si faceva l'attuale via Marconi, via Dante, via Cartucci, via De Vizzi, Cascina Robecco, Cascina Bovatio, Sia San Fruttoso e Monza. Questo è il percorso. Quello per Milano invece subentrò nel 1913 ed era elettrico, passava per via Gorki, via Milano, attuale via Libertà. Il capolinea a Cinisello era via Milano, ecco qua il famoso tram bianco. Mentre a Milano era via Lunigiana. Cessò definitivamente il 7 ottobre 1957, sostituito dal Puma su Puma. Questo è l'ultimo veicolo in funzione Fontanella-Cartucci. L'ultimo veicolo Il capolinea a Cinisello Il capolinea a Cinisello Grazie.